Noi non recitiamo sempre, perché sempre è scritto in lingue, noi recitiamo le traduzioni e quindi, non quindi, poiché è quello che recitiamo, è fondamentale per una traduzione che traduca alla lettera, non solo una lingua immediatamente verbale, ma una doppia lingua, cioè una lingua che nella quale la struttura, diciamo, formale, ritorica, ha un'importanza enorme da una parte e da un'altra l'immediatezza teatrale venga ricadotta. Questi due elementi che sono fondamentali se si traduce scelta, e noi recitiamo l'altro, le traduzioni, la tezza Cavalli, sempre, lo colgono, li colgono questi due elementi in maniera straordinaria. Quindi già parliamo di dire che abbiamo un po' della quale è una struttura, più grande che è una struttura, poi che è una struttura, più grande che è una struttura.